Weee! Non fare la banana flambeee! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, mamma mia, ci siamo! Fra pochissime ore, tre ore, per la precisione, potremmo cominciare ad installare la nuova patch 8.11. In arrivo ragazzi, con un giorno di anticipo rispetto ai normali canoni con cui Epic Games rilascia generalmente gli update, soprattutto le patch semi-importanti come questa, quindi non vediamo l'ora ovviamente di scaricarla. Mi raccomando, tenete controllato il mio Instagram perché questa mattina più tardi potrei caricarvi dei leak se per caso ne arrivassero. Nel video di oggi ragazzi, ovviamente, ci soffermeremo un secondo sull'argomento di cui vi ho appena parlato. Parleremo anche però di un trucco che si può fare con il cannone. Una cosa incredibile, probabilmente potrebbe anche essere fixata, ma forse no. E parleremo della Black Heart Cup. Tutto ufficiale da parte di Epic Games sui suoi social. Quindi ragazzi, video super interessante, ma voglio ringraziarvi prima per utilizzare il mio codice creator, Xiodarone. Grazie di cuore per il mega sostegno. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Ma prima ragazzi, e dai la domandina raga, è bella questa eh. La domandina, i vostri commenti qua sotto. Dai che ci tengo a leggerli. È una domanda nostalgica. Quale location ti manca di più? Dai, per chi gioca da tanto tempo, ne abbiamo veramente viste un sacco. Nascere e scomparire. Qual è quella che ti manca di più in assoluto? A me ragazzi mi manca tanto i passatempi. I passatempi sgarzanti erano un must delle live, per chi seguiva ovviamente le live fino a quando c'erano. Mi manca tanto non averli, anche perché ero abbastanza bravo a muovermi a passatempi. Ditemi qual è la location che più vi manca qua sotto, nei commenti. Ma quindi, ciancio alle bande, e bando alle ciance. Andiamo subito, subito, subito a vedere il tweet ufficiale di Epic Games che dice Howey, mates! We ragazzi, in poche parole. L'update 8.11 è stato programmato per oggi. Il tweet è di ieri, quindi giustamente dicono Oggi, marzo 20, alle ore 5 am dell'European Time, che sarebbe alle ore 10 per noi. Quindi alle 10 del mattino, ragazzi, probabilmente i server andranno giù. Perché hanno detto che ci saranno dei problemi, o comunque non ci saranno probabilmente le statistiche relative ai social. Quindi io non ho ben capito cosa intendessero. Buttano giù tutto. Ci aspettiamo, ovviamente, ragazzi, la nuova Flint Pistol. Ne abbiamo già parlato ieri. Non c'è bisogno di perdere ulteriore tempo. E ragazzi, ci saranno, forse, molto probabilmente in questa patch, delle nuove skin che ancora non sappiamo. Anche perché mancano solamente tre skin di quelle che avevamo visto due settimane fa che ancora non sono state rilasciate. Quindi, update 8.11 in arrivo. Ma andiamo avanti e parliamo di una cosa incredibile. Questa, ragazzi, è un'immagine che ha cominciato a girare in maniera molto prepotente nei vari canali relativi a Fortnite per quanto riguarda il modding, il leaks, le informazioni non ufficiali. Ragazzi, questa è interessante. Si parla di una possibile idea di inserire delle varianti alle coperture delle armi che esistono di già. In questo caso vediamo il gemstone set che è molto interessante. Noi sappiamo che in questo post battaglia si sbloccherà la skin amethyst, comunque il colore dell'amethyst verso la fine. Mi sembra l'ultima pagina, livello 96. Una cosa del genere. Sembrerebbe che arriveranno nello shop altre quattro varianti utilizzabili e intercambiabili. Un po' come hanno fatto probabilmente per il test con le skin delle armi della skin Joker. I quattro semi delle carte. Quindi avremo l'ambra, avremo il rubino, lo smeraldo e il sapphire. Adesso lo zaffiro deve essere bellissimo. A me piace tantissimo questa trama delle armi. Non vedo l'ora di sbloccarla e di vederla. E insomma è una cosa molto molto interessante poter avere magari dei colori diversi per le nostre skin delle armi preferite. Ma andiamo avanti ed eccoli qua ragazzi. Le nuove skin, le ultime skin recuperate nella precedente patch e ancora non rilasciate. Ora col culo che ho io saranno uscite stanotte nello shop. Sicuro, sicuro, ma se non dovessero essere uscite. Eccole qua ragazzi e ho di più da farvi vedere. Voglio mostrarvi anche ragazzi un velocissimo... Questa è la skin honor. Un velocissimo gameplay ragazzi della skin in game. Parliamo ovviamente di un gameplay preso dai leakers. Ed eccola qua ragazzi con tanto di deltaplano. Questa è la versione maschile della skin. Vorrei andare avanti, tanto qua sta atterrando per farvela vedere meglio. Ecco qua, lui va ad atterrare. Non è che mi piace tantissimo. Poi io non sono molto amante delle robe futuristiche, robò... Anche AIM non è che mi piace tanto per dire. Adesso lui fa le mot così si gira. Lo vedete in faccia comunque se non aveste ancora visto queste due skin. Ecco qua il set completo con tanto di backpack. Ed ecco qua la faccia della skin. Insomma ragazzi, tanta roba anche per questa. Ma andiamo avanti e parliamo della Black Heart Cup. Quindi, che cos'è questa Black Heart Cup? È un evento ufficiale, ovviamente promosso da Epic Games. Come si accede alla Black Heart Cup? Magari avete già riconosciuto i colori e lo stile. Esatto ragazzi. Sono relativi agli eventi che ci sono in questi giorni. Arriva il tweet ufficiale di Epic Games che dice Se per caso ti sei piazzato nel 3% dei giocatori in qualsiasi gauntlet test, quindi i tornei che abbiamo fatto in questi giorni, Il giorno 23 marzo a mezzogiorno si sbloccherà automaticamente la Black Heart Cup che quindi verrà giocata questo weekend. Penso che siano ragazzi dei test match abbastanza importanti. Se qualcuno di voi pensa di aver fatto bene, di aver fatto tanti punti nei gauntlet test, Beh, avrà la possibilità di partecipare a questa Black Heart Cup che dovrebbe essere l'ultima passerella prima di un evento ufficiale dal vivo. Ma andiamo avanti e chiudiamo ragazzi, o magari se riesco di vi dico un'altra news, con il bug del cannone ragazzi. Allora, è stato scoperto in game, se non sbaglio, da qualcuno del team di Tifu e il bug del cannone non è un bug, è una cosa che un po' tutti ci aspettavamo succedesse ed è successa. Eccolo qua ragazzi, non è difficile da capire. Guardate un pochettino, guardate un pochettino, dai. L'avevamo già visto ai tempi con il Rocket. Il primo al mondo che è riuscito a salire su una palla di cannone ragazzi. Ora ve lo faccio rivedere in altre angolazioni. Eccolo qua, gli prepara bene bene l'angolo. Il tiro è perfetto e via così. Lo Skull Trooper vola allegramente in tutta la mappa di gioco. Tanta tanta roba ragazzi, anche per questo bug, o meglio, per questo glitch del cannone, che in poche parole, dai, è molto divertente e sicuramente farà molto piacere a chi riesce a completarlo. Dai, allora ragazzi, molto velocemente, chiudiamo con l'ultima informazione, che è relativa alla skin Honor Guard. Lo sapete, ci sono stati tutti i problemi relativi al numero di codici che sono stati rilasciati illegalmente, bla 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 bla. Sembra, ragazzi, che la Honor tornerà il giorno 28 marzo. Questo è un comunicato ufficiale da parte di Samsung, che quindi dice, verrà modificato il metodo di recupero di ottenimento della skin e il 28 marzo sarà nuovamente disponibile. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su, codice creator, xyuderone, noi ci vediamo alle 13 in live. Ciao!